Eccoci qua ragazzi, qua è Spyro. Sono le 11 e qualcosa, più o meno. Sto guardando la MotoGP, come potete vedere. Questa è la... adesso sto per andare a dormire, anche domani mi iniziano gli esami per andare in primo superiore. Scusate la pettinatura, ma sono stanco morto e ho paurissimo per domani. Credo che questi primi video del mio nuovo canale saranno tutti più o meno dei vlog, così per la notte prima degli esami, che è sempre simpatico. Però magari domani faccio anche un gameplay o qualche challenge, vediamo. Così perché di sicuro non posso fare tante cose che devo studiare, è importante. Domani ho il tema, la prima prova. Bisogna spaccare tanto, tanto, tanto. Piano piano riusciamo ad andare. Con calma e passiamo tutto. Io sono abbastanza timoroso perché, non so, ho paura. Ho paurissimo. Comunque vi ringrazio tantissimo. Già dei 17 iscritti in un giorno. Già al primo video 12 like, mi sembra. Bellissimo. Siete fantastici. Siete fantastici. Vi amo. Vi amo. Comunque, ragazzi, se vi piace questa serie, questa serie, tra virgolette, che durerà tutti gli esami che farò la sera prima, che farò più o meno sempre a quest'ora, quando andrò a dormire. Se vi piace lasciate tanti like e mi raccomando, sempre iscrivetevi. Spero vi piaccia anche l'immagine di copertina e di profilo del canale. L'ho fatta grazie a tutti i feddi. Comunque, ogni video lascio sempre in descrizione il link dello scorso video fatto. Raga, buonanotte. Commentate, condividete, spolliciate e iscrivetevi. Bene, raga.